Dunque, diamo il collegamento con il teatro a tenda canadese V884, il famoso 2DNU, presentiamo il grande scapparatore Zeppo! Ok, e invece il secondo componente, il grande scapparatore Polanski! Alla batteria abbiamo anche un componente dei black key, bai! Ho un testo rock! Ho un testo rock! Ho un testo rock siciliano! Ho un testo rock siciliano! Allora, sta rock e i facoltelli internaziano! Quando suoni rock sento un tic toc! Quando suona... il testicolo è il suo! Il testicolo è mio! La metto lì, il testicolo! Lassi stare! Il testicolo dico... Va bene, la sera! L'aria aveva tanti... Aspetta, aspetta, aspetta! Dobbiamo prendere il ritmo! Prima il ritmo! Il raglio aveva fatto i gnocchi... Il raglio ha fatto i taccoracci... Sono voci giochi... Sono voci distrati! Canta! Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì.